Avalanche, uno dei progetti cripto più promettenti in cui io stesso ho scommesso parte dei miei investimenti, purtroppo è finito nell'epicentro di uno scandalo clamoroso. Tra poco vi darò maggiore dettaglio, ma in realtà questo video, questa nuova puntata di tutto sulle cripto, sarà contornata di diversi scandali. Il secondo coinvolge direttamente Michael Saylor, uno dei più grandi sostenitori di Bitcoin, che è stato accusato di frode fiscale. Intanto, Crypto.com a causa di un errore invia ad un cliente ben 10 milioni di dollari invece che 100 dollari. E non vi dico nemmeno in che modo quel cliente ha speso tali soldi e soprattutto che cosa si è comprato. Tra poco ve lo rivelerò. Toccheremo anche l'argomento NFT, essendo che sta sbarcando sulle piattaforme social di Meta. E l'entusiasmo attorno a Facebook e Instagram è davvero tanto. Ecco, vedremo esattamente che aspetto avranno queste NFT che secondo me sono davvero interessanti. Poi parleremo di Ethereum che si sta avvicinando sempre di più al Merge e l'entusiasmo anche qui è piuttosto forte. Però molti potrebbero essere delusi, soprattutto coloro che pensano che con l'arrivo del Merge, Ethereum possa avere delle commissioni di transazione molto più basse. Ecco, sappiate che questo non accadrà, a meno che non succeda un'altra cosa. Ciao a tutti, io mi chiamo Dimitru e benvenuti in questa nuova puntata di Tutto sulle Cripto, ovvero la serie settimanale dove parliamo delle ultime notizie dal mondo cripto e le svisceriamo qui tutti insieme parlando sia degli aspetti positivi che di quelli negativi. Prima di iniziare vi volevo ricordare che se ci volete seguire anche su Instagram potete cliccare sul link in descrizione. Ogni giorno quasi pubblichiamo un post in materia di finanza personale, investimenti, economia, cripto, insomma tutti i maggiori aggiornamenti e tutte le notizie più interessanti direttamente sulla pagina Instagram. Quindi cliccate sul link e andate subito a seguirci. Il gigante dei social media Meta, che solamente in Italia possiede oltre 38 milioni di utenti attivi, sta testando gli NFT basati su Ethereum e Polygon. Più in particolare Meta ha detto che oltre 2,9 miliardi di persone che utilizzano su base giornaliera Facebook e Instagram avranno la possibilità di condividere oggetti da collezioni digitali e NFT. Quindi vuol dire che Zuckerberg con le sue strategie si sta avvicinando sempre di più al mondo NFT e vorrà in futuro integrarli con maggiore impatto all'interno delle sue piattaforme social. Tempo fa si parlava anche di un possibile marketplace di NFT su Facebook. Ecco, sappiate che tutto questo è solamente un rumor e che non è niente di concreto. Chissà, magari in futuro potrebbe arrivare anche questo tipo di novità. Per il momento però non si sa ancora nulla. Qui potete vedere esattamente che aspetto avranno queste NFT sul vostro feed di Facebook e Instagram. Ecco la differenza fra i post normali e che queste NFT avranno un'etichetta con scritto Digital Collectible. Se anche tu hai investito in Avalanche come me, sono sicuro che questa notizia ti interesserà e anche parecchio. Infatti dopo il cataclisma che è venuto fuori da Avalanche, ecco, il progetto ha lasciato sul campo il 15% lo scorso weekend in poco tempo. Quindi non è stata una bella notizia, anzi, tutt'altro. Ma che cosa è successo di preciso? Praticamente Kyle Roche sarebbe l'avvocato dietro la blockchain di Avalanche. Lui ha affermato di essere molto amico del fondatore e ha detto che uno dei suoi compiti consiste nel fare causa a diversi progetti crypto rivali come Polygon, Solana, Cardano, eccetera, per poter fare in modo che Avalanche possa avere una marcia in più rispetto agli altri. Quindi il suo compito è quello di prendere i problemi, le vulnerabilità degli altri progetti crypto, delle altre blockchain, per fare in modo che Avalanche possa avere la meglio sulla sua concorrenza. Il fondatore non è rimasto con le mani in mano ed è uscito fuori parlando e dicendo la sua. Chiaramente si è dichiarato estraneo alla vicenda. I due si conoscono per davvero, però quello che ha detto Avalabs è che lo studio legale di Kyle è intervenuto in veste di difesa in diverse occasioni per quanto riguarda alcuni contratti aziendali, alcune controversie che si erano create. Ma Avalabs in realtà si avvale di una dozzina di studi legali diversi e quello di Kyle è solo uno dei tanti. Il fondatore ha affermato che in realtà il suo team non ha bisogno di compiere delle operazioni subdole per riuscire ad avere la meglio rispetto agli altri, non ha bisogno di patti segreti o intrighi dietro le quinte. Sono contenti di quello che fanno, credono per davvero nel progetto che stanno costruendo e non hanno intenzione di finire col naso nel fango per una vicenda simile. Insomma, non si sa a chi dà ragione. Fammi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensi. Io comunque continuerò a credere fino in fondo nel progetto di Avalanche anche perché ci ho investito dopo uno studio fatto dietro e quindi tifferò per loro perché credo che la loro blockchain sia davvero valida. Vi avevo accennato che questo video sarebbe stato contornato di diversi scandali ed ecco il secondo scandalo di oggi che coinvolge direttamente Michael Saylor. Per chi non lo sapesse, Michael è uno dei più grandi sostenitori di Bitcoin. Lui possiede uno dei fondi di Bitcoin più grandi al mondo, dal valore di miliardi di dollari. Il procuratore generale del distretto di Columbia ha affermato che Michael Saylor negli ultimi tempi, cioè in realtà negli ultimi anni, ha guadagnato centinaia di milioni di dollari, però di tasse ne ha pagate zero. Più in particolare le autorità distrittuali hanno detto che Michael ha evaso oltre 25 milioni di dollari in tasse, nascondendo la sua residenza in Florida e in Virginia dove l'aliquota fiscale è decisamente più bassa. Michael ovviamente ha risposto in modo rispettoso dicendo che la sua residenza è sempre stata per questi ultimi 10 anni in Florida e quindi troverà una soluzione equa portando in tribunale coloro che l'hanno denunciato. Insomma, vedremo in futuro come si svilupperà anche quest'altra vicenda. Crypto.com, un importante exchange con sede a Singapore, ha commesso un errore madornale. In pratica dovevano fare un rimborso ad un loro cliente, in particolare una donna che abita a Melbourne, di 100 dollari. Ma che cosa è successo? È successo che l'addetto, a cui era stato incaricato questo compito, nel campo dove bisognava mettere l'importo, quindi 100 dollari, ha messo invece il codice del conto e quindi praticamente la donna dall'oggi al domani è diventata milionaria perché anziché ricevere 100 dollari ha ricevuto ben 10,5 milioni. Ma questi soldi non è che li abbia restituiti, non è che abbia contattato Crypto.com preoccupata di cosa fosse successo, ma li ha usati per comprarsi una gran bella villona nel sobborgo di Melbourne. E devo dire che come gusti non sono per niente male e si avvicinano pure ai miei. Magari avessi una villa di questo calibro. Sta di fatto che Crypto.com, per fortuna, anche se in ritardo, se ne accorta di questo errore e alla fine ha portato la donna in tribunale con l'obiettivo di riavere indietro i fondi. In molti sono convinti che dopo il merge Ethereum, Ethereum possa finalmente avere un costo delle commissioni di transazioni decisamente inferiore. Ecco, tutti coloro che pensano questo si stanno sbagliando di grosso. Semplicemente non accadrà. Tuttavia devi sapere che Arbitrum sta lavorando a fondo per riuscire a ridurre il gas fee. Ma che cos'è Arbitrum? Arbitrum è una soluzione di livello 2 che ha l'obiettivo di migliorare le capacità dei contratti intelligenti di Ethereum per renderli più scalabili e più veloci. Il 31 agosto Arbitrum ha subito un importante aggiornamento che dovrebbe finalmente ridurre almeno un po' il costo delle transazioni del gas fee sulla rete di Ethereum. Inoltre dovrebbe migliorare la comunicazione cross-chain fra Ethereum ed Arbitrum. E queste sono state 5 notizie dal mondo cripto che dovevo per forza condividere con voi. Come sempre fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi saluto e vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. A presto, ciao!